La corsa verso i mondiali del 2023 è iniziata bene con due vittorie contro Moldavia e Croazia. Che Italia ha visto? Ho visto una buona Italia, ho visto soprattutto un gruppo di ragazze determinate, concentrate e vogliose di fare bene. Sicuramente avremmo potuto segnare più gol e quindi è importante perché i gol segnati poi alla fine contano. Però insomma ci prendiamo i sei punti e soprattutto anche una partita in crescente. Quindi gli aspetti positivi sono sicuramente superiori. Prima dei mondiali del 2023 c'è un altro grande appuntamento, sono gli europei d'Inghilterra l'anno prossimo. Con che obiettivi ci andiamo? Con quali aspettative? Anche perché l'Inghilterra porta bene al calcio gli europei, per lo meno ai maschi ha portato bene. Assolutamente sì e ci auguriamo che porti bene anche a noi. Ma ci andiamo con la consapevolezza che noi siamo una nazionale in crescita, ma con la consapevolezza che lì troveremo l'elite del calcio mondiale. Perché è in Europa che ci sono le squadre più forti e quindi insomma riuscire a passare il primo girone sarà già molto difficile. Però ai mondiali, agli ultimi mondiali siete arrivati ai quarti di finale, è un risultato clamoroso. Senta la pressione addosso di doversi riconfermare? Sicuramente la pressione addosso c'è, ma la dobbiamo vedere anche in modo positivo, nel senso che se abbiamo questa pressione è perché adesso in Italia si parla di calcio femminile, perché le ragazze sono seguite, si guarda la nazionale e quindi significa che abbiamo fatto qualcosa di importante. E quindi insomma dobbiamo riuscire a trovare energia positiva da questa pressione. Parliamo proprio di campionato, un inizio molto equilibrato, molte squadre al vertice, è un bene anche per la nazionale un inizio così equilibrato, un torneo meno scontato? Assolutamente sì, se il campionato è di livello alto, se è molto competitivo, se è incerto, questo non fa altro che bene alle ragazze per la loro crescita, al movimento e di conseguenza alla nazionale. Grazie a tutti!